La storia di Giuseppe, il prigioniero divenuto il primo ministro, ci insegna che possiamo elevarci oltre le circostanze, vincere le sfide e vivere nella pienezza del potenziale datoci da Dio. Fu un lungo viaggio, il suo, e anche il tuo potrebbe esserlo, ma se non fai il primo passo rimarrai bloccato dove sei. A volte la fortezza è stata eretta nell'infanzia. Le sofferenze familiari sono le più profonde perché precoci e legate a persone che avrebbero dovuto essere amorevoli e affidabili. Eri troppo giovane per elaborare il maltrattamento. Non sapevi come difenderti. Padre, madre, zio, fratello o maggiore ti dominavano, spesso in stature sempre per il loro ruolo. Quando ti giudicavano erroneamente hai creduto al loro giudizio. Per tutto questo tempo hai vissuto basandoti su dati falsi. Tu sei stupido, lento, imbranato come tuo padre, grasso come tua madre. Decenni più tardi quelle voci di sconfitta e cheggiano ancora nel tuo subconscio. Ma non lo devono fare più. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Usa la strategia del rifiuta e ripeti e cambierai il tuo modo di pensare e di vedere te stesso. Quando emergono pensieri negativi di paura, sollecitati da colpe nascoste, pensieri di inferiorità, di condanna, respingili e inizia a ripetere quello che Dio dice di te nella sua parola. Man mano che la parola di Dio prende dimora in te, i tuoi vecchi pensieri inizieranno a morire e a perdere il loro controllo. Oggi abbatti quella fortezza e lascia che la guarigione abbia inizio.